Potente appara ragazzi, qua Wax, l'ho giunicato, oggi sono al sole e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi, è una nuova recensione Ebbene si era da un macello di tempo che io non vi proponevo, meglio di non portavo sul mio canale Recensione di qualche giocatore E oggi ho detto, eh no, eh no, eh no Io gliel'avevo promesso e io devo farne un'altra Infatti oggi sono qui a presentarvi la recensione di Ibrahimovic Third Inform, infatti Sono qui a presentarvi la recensione di Ibrahimovic Valutato 92 Perché è valutato 92? E non 90 oppure 91? Perché questa qua è la sua terza versione in forma Ecco per cosa sta la T prima di IF Perché vi dico ciò? Perché molti di voi non hanno idea di cosa sia quella lettera presente prima della parola IF Quindi è una cosa abbastanza tattica Comunque ragazzi, prima di iniziare volevo straringraziare e poi consigliarvi alla grande Di passare da FIVA come stessi Se siete interessati a comprare Crediti di FIVA Perché è proprio grazie a loro e appunto per alcuni match che ho vinto Che ho avuto la possibilità di provare ed utilizzare questo giocatore fenomenale Allora partiamo subito Ibrahimovic Valutato 92 Si presenta dunque con un 92 di rating 79 di velocità 94 di tiro 85 di passaggio 91 di dribbling 57 di difesa 84 di colpo di testa Alto 195 centimetri Workrate normale basso 4 stelle di mosso in piede debole 5 stelle di mosso abilità L'ho utilizzato per adesso 7 partite In 7 partite mi ha fatto 9 gol e 2 assist Partiamo subito Prima di iniziare appunto facendovi vedere le sue statistiche in game Parliamo un attimo del prezzo Il suo prezzo sia su Play che Xbox Si aggiungerà intorno ai 3 milioni e 200 mila crediti Scusate per l'interruzione ma mi sono appena accorto di aver detto una vaccata tremenda Io ahimè l'ho pagato 3 milioni e 300 mila crediti E adesso c'è al mercato 2 milioni e 300 mila Quindi un milione in meno di quel che l'ho pagato io Doh Invece su PC c'è proprio E' da ricchi Costa 4 Beh E' da riccherimi Costa 4 milioni e 800 mila crediti Comunque C'è le sue statistiche in game In cosa prevale? Beh Ovviamente prevale nella forza fisica Infatti presenta 98 Poi 98 Sempre nei tiri a giro 99 nella potenza del tiro 95 nei long shot 99 di finalizzazione 95 di dribbling E 97 di controllo palla Allora ragazzi Una sola parola per definire questo giocatore Anzi Facciamo come ha detto lui O meglio Come si dice di Ibrahimovic Esistono due tipi di ATT in questo gioco Ibrahimovic e gli altri Cioè ragazzi questa qua E' una citazione che ha qualcosa di magico No Comunque a parte gli scherzi Ragazzi E' una bestia questo giocatore Ovviamente La sua pecca Quale sarà? Sarà la stessa Che ho detto Che appunto vi ho detto Per Cristiano Ronaldo Secondif se non sbaglio Che infatti Qual è? E' quella Di costare un macello Perché ovviamente So che 3 milioni di crediti Non ce li hanno tutti Anzi ce l'ha veramente Una porzione ristretta di gente Di utenti che giocano A FIFA Ultimate Team Quindi in pochi Lo possono provare Ma vi assicuro O meglio Vi consiglio alla stragrande Che se avete i soldi per farlo Provatelo Perché è un qualcosa di magico Ragazzi Fate i gol Della madonna Scarta tutti Il Cioè Ha 5 stelle di mossa abilità E se poi lo utilizzate Nel modulo giusto Vi straserà alla grande Io l'ho utilizzato In un 4x3 Ma perché ho usato Questo modulo? Semplice Perché ragazzi Come avevo sempre detto 4x3 è quel particolare modulo Che se avete giocatori Idoni appunto Per il proprio ruolo Per Sì per coprire una determinata parte di campo Può essere uno dei migliori moduli Se non il migliore Infatti Pensate un po' Ad avere Un 4x3 costituito Dalla punta O meglio Da un tridente Che ha come punta Ibrahimov Cioè È una punta È la punta di sfondamento Per eccellenza Secondo me È il migliore Striker O meglio È la migliore punta Proprio punta In generale Al mondo E ragazzi Su FIFA È qualcosa di magico A parte che vi divertite un sacco Ad usarlo Ma è anche bello Perché vi segnerà Dei gol Fantastici Poi Le sue 4 stelle Di piede Si fanno veramente Sentire tanto E secondo me Potevano essere anche 5 Perché infatti Nei gol che starete vedendo Lui mi ha fatto anche Dei grandissimi gol Di mancino E secondo me Quindi poteva presentarsi Anche con 5 stelle Di piede debole Poi vabbè Non parliamo dei pallonetti Perché quando gli fate Un filtrante Si trova solo contro il portiere Potete o scartarlo O fare dei pallonetti Easy easy Questi pallonetti Il 99% Delle volte Rintreranno E l'altro 1% Prenderanno palo Però ragazzi Questo giocatore Non dico che è una pecca Ma io avevo provato anche La sua versione Secondif È una cosa Che sinceramente Mi è sembrata Diversa È la sua Forza fisica Quella che io ho denominato Capacità di essere un carro armato Perché ragazzi Ibrahimovic Con 98 di forza fisica Tecnicamente parlando Dovrebbe spaccare giù tutto E non perdere il malparlone E così lo fa Infatti uno dei suoi presi Sarà quello di essere un carro armato Un tank Se possiamo così definirlo Ma secondo me È cambiato qualcosa Dalla sua versione Secondif A quella Appunto All'ultima sua versione In forma Quindi magari Questa non può essere Non è ovviamente Considerata una pecca Ma è una differenza Tra secondif E Thirdif Però Ovviamente Se voi mi state chiedendo Axel Io ho I soldi necessari Ho un budget necessario O meglio Posso comprarmi Sia Ibrahimovic Secondif Che è la sua terza versione In forma Quale mi consigli tu Ragazzi La terza Perché la terza Ha qualcosa di magico Io infatti Che voto gli darò Gli darò un voto Da 1 a 10 Di 9 e mezzo 9 e mezzo Che è lo stesso giocatore Che avevo dato Nella review di Cristiano Ronaldo Perché non gli do 10 Perché ragazzi Secondo me 10 in questo In questo momento Con i giocatori che io ho utilizzato Se lo può meritare Solamente Cristiano Ronaldo Team of the Air Ragazzi A me Piace veramente un sacco Non ho ancora provato Ibrahimovic Team of the Air Che Allora Lo proverò A punto di domanda Lo proverò Se riuscirò a vincere Il pink pale Di quest Ibrahimovic Perché infatti Colgo l'occasione Per parlare un attimo Del pink pale Io ve l'avevo promesso E come promesso Io tecnicamente Io le mantengo Le promesse che vi faccio E quindi Io andrò a fare Le pink pale Quando lo farò Allora Per avere ulteriori informazioni Per il pink pale Passate dalla mia pagina facebook Il link lo troverete in descrizione Mi sono ingozzato Però Tecnicamente parlando Lo potrei fare Domani Come anche Oggi pomeriggio E' un po' più probabile domani Ma Se questo video Avrà Dei mi piace magici Del tipo che raggiungiamo I 2000 Entro oggi pomeriggio Io posso Anche fare il pink pale Diciamo Verso le 6 6 e mezza Prima della serata Del sabato sera Quindi mi sembra Una cosa abbastanza tattica Ragazzi Io spero di aver detto tutto Spero di avervi fatto capire Un po' Com'è questo giocatore Io praticamente Ho detto Ho detto solo Che è un magico giocatore Ma perché ragazzi Se lo provate E' così E' così O è così E' una cosa abbastanza tattica Ultimissima cosa Che non vi ho detto Quale chemistry style Li consiglio Consiglio di metterci Appunto a questo giocatore Consiglio di metterci La chemistry style Cazzatore Che aumenterà La velocità E tiro Infatti L'unica Non è neanche una pecca Ecco Adesso parlerò Della velocità Di Bruno Perché Sembra Su carta 79 di velocità Ma secondo me Non è neanche così lento Perché Ha 93 di agilità Quindi Lui Sarà Si lento Ma comunque Facendo spallata Gli avversari Grazie alla sua 98 di forza fisica E non cadendo Grazie al suo 93 di agilità Supererà facilmente Gli avversari Se poi ci aggiungete Dribbling C'è proprio Ciao E' andato Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Vi esorta A lasciare un bel commento Un bel mi piace Fatemi Mi raccomando Sapere come vi è sembrata Questa review Dato che io di review Non ne ho fatte tante E non credo che ne farò Comunque tante Però quelle che faccio Voglio appunto Che vi piacciono Fatemi sapere in che cosa Posso migliorare E fatemi anche Sapere un difetto Di questa review Quindi ragazzi Detto questo Io vi saluto E vi dico potente A pala ci si sente Al prossimo video Bolla